ragazzi ben ritrovati subito mi sono dimenticato di un dialogo va bene e prenderemo da qua ottavo capitolo siamo riusciti a prendere la croce e tutto è andato leggermente più storto del previsto perché doveva essere un gioco studiante questo è venuto fuori uno dei peggiori esplosioni pistole musine robate distrutte normale se è quello che pensate ok ora siamo in scozia col teletrasporto e dobbiamo cercare la tomba di Henry Avery e spero ci dia qualche inizio maggiore di una croce rotta vuota e atterrati come ci arriviamo la lontanino dobbiamo scendere non era consigliabile mi sa che proprio devo scendere cazzo un bel salto un bel salto e muore sono andato dalla parte sbagliata ma non sono abituato a checkpoint così vicini voglio saltare giù ma perché se vuoi diamo non giù hai la corda e qua sarebbe piuttosto utile come cosa no 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 di nuovo e proviamo da capo ok c'erano fermati qui stavolta però vai prima tu senti se saldi giù crepi ma cosa ah di là ma basta sai le grattate di schiena sai le grattate che ti prendi sulla schiena con questo sì non possiamo saltare giù da qua ci ho già provato qualche volta per fortuna andiamo giù caliamoci caliamoci fatto arrivati tutto già attrezzato benissimo sembra fatto apposta ma non è roba nostra non si accorgeranno di qualche pezzo mancante oh cazzo ecco qualche arma ma si sa ben già ma perché ho la mira così non mi ha proprio vuole di mirare oggi perché siamo andati di bianchina morati tutti? eh no eh piacere nostro bene sembra ci stessero aspettando lo sapeva già un motivo in più per raggiungere subito il cimitero esatto quindi è meglio se ci sberchiamo per me qua c'è un tesoro o qualcosa di sembra ma è un'area troppo stesa e se non sai dove cercare ma non c'è niente mi aspetta ah so che è divertente buttare buttare dinamite a caso ma un po' fuori luogo qua dove ci sarebbe avreste potuto beccare una tomba no? no? ok dobbiamo andare su per forza che munizioni sempre importanti il commento del cimitero sarà un bel pezzo avanti tipo qua sicuramente no dobbiamo saltare giù che ci stessero aspettando? c'è che siano qua intorno non c'è nessuno ah boh questa non lo sapevo la scatola dinamite ah ci ho indovinato bene ok tranquillo non lanciarlo non lanciarlo ah non ho capito eeeh vai perché non ce ne hanno pensato loro ah beh lo speriamo bene e altre esplosioni guarda è un passaggio soltetto non puoi spingermi così in alto come no vediamo qualcosa su cui salire si esatto eeeh oggetti oggetti che si possono muovere dove sono? abbastanza alti tipo una scatola ci sono molte scatole ma una che si può muovere dov'è? questa mi sembra un po' pesantuccia ma non si fa proprio niente no o va bene lo so ma poi che abbiamo spaccato il tetto così a caso? di qua? eeeh no un aiutino? ecco ecco eccolo qua finalmente ehi guardiamola per uscire da quell'edificio ehi come la facciamo uscire scusa? ah ho capito o siamo messi a posto ai cancelli fatto c'era un pedosso cazzo ronissima non pensavo di prendere due segna verito 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 e giù di qua giù dai dai non fare il ecco qua farla cadere casi ora ora manca poco manca poco manca poco lasciamo qua non ci scopriranno mai non ci scopriranno mai qui in una scatola tutta messa così aiuto aiuto li ammazziamo? li ammazziamo? li ammazziamo? non li ammazziamo? li ammazziamo? ok ci hanno trovati quanti cazzo sono? morto 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 un altro morto un altro ma quanti cazzo sono? ma quanti sono? oh calma ma perché ci bastano comagliari i bianchini? morti attendola in cerca di nascondersi inutilemente cavolo 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 gramata fatto ok cerchiamo di questo qua sta parecchio in mezzo eh sapevo che me lo faceva bravo grazie non potevi riuscire da pugni? come stai facendo adesso? bravo fatto ucciso proprio fatto K47 ci va un pesante qua non sono ancora finiti eccolo fatto eccolo la dai che si nasconde fatto un colpo un morto oh oh ah che ragione che posso trapassare i muri non ha una pistola oh sembra una coincidenza abbiamo evitato il pezzo si era questo il peggio che poi ammazzeremo anche loro che ammazzeremo anche quelli che andranno a cercare quelli morti e via così e via così finchè non moriranno tutti un piano ragionevole ok cerchiamo di portarla al prima possibile la in fondo questa eh che sembra un cioè non è tanto pesante almeno sembra bene forza andiamo oh come non ce la fai eh ah ecco e che c'è qua non sembra che ci sia niente di importante o era solo un passaggio qua per esempio non c'è niente ah l'altra parte e adesso ah ecco via e e gli spigoli più improbabili conferma ecco ecco come hai fatto? no dall'altra parte ha fatto esatto ce l'abbia fatta ah eh di nuovo dall'altra parte credo esattamente è la stessa parte scusate ah più su quasi fatto giusto un po' più su ok aspetta arrivo come arrivo adesso mi sali sulle spalle che poi cade per terra e muori scuso scusate ho toccato il microfono spingami e vai e che aspetti non può essere così complicato dai ok si è parte complicato e prego una mano e da lì come mi tiri su da lì? mi prendi per la culo? ma da che culo veramente che culo ok passami la mia mano qua su grazie ci sono ci sono e ce l'abbiamo fatta quanto può essere lontano alle 3 abbastanza lontanino si saldi un paio di saldi mi sembrano un po' di più mi fa male eeeh mi fa un po' mi fa male mi fa male solo vederlo aia si fa parecchio male cazzaravissimo che c'è? e non hai sentito il resto vado a fischiare mentre tu c'è la record ok ecco ah la sua record è quella eeeh morto ecco adesso chiamo 1 3 1 io eh io a destra appunto 1 oh eeeh io ti stavo aspettando cavolo vabbè spero spero anch'io sfruttare la malta quant'è? ah è sto qua siamo già arrivati non è possibile ah non sarà visibile bene di qua il sito web ok ok su non ci hanno visti bene ok c'è come disaminare la zona? questo qua viene nella nostra direzione da solo anzi no ce n'è uno di là cazzarolissimo ah no è una cosa di è una tanica però c'è anche un fucile a secchino ah no è un mitra un mitra ho sbagliato ok 1 sembra fatto apposto bene 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 adesso adesso cerca di andare nell'erbalta come ho fatto a non vedermi oh ma se è rincoglionito si ma qua le chile faccio tutte io quasi fatta peccato un po' più su vieni giù vieni giù beh non è caduto da così tanto ora sembra fin troppo facile mi credo che nel 3 era un po' più difficile o forse sono io che sono forse sono io che sono migliorato non lo so vieni giù oh cosa vuoi? cazzo ti arrampi chiamano no non voglio la capo 47 1 2 no sto qua guarda di qua spero si giri cavolo eccolo qua sto qua arriva piano 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 è una recluta che arriva ah non è giù pensavo fosse l'uniforme cazzo bene morto questo invece è pensate anche voi quello che penso non era questo quello che pensavo ora dobbiamo rifare la strada da capo che palle vabbè vabbè è fatto una epoca vabbè 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 cavolo come va ci ti andocchio come? no 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 giù ecco spero io vabbè 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 tanto ormai sono qua sono pochi no come sono morto non è possibile e l'altra volta e l'altra volta me ne sparavano mille stavano ora in piedi adesso due colpi mordo ok per fortuna li prendiamo da qua eccolo via eccolo qua ci siamo sporti troppo ci siamo sporti troppo nell'ultimo coso ecco perchè ah non perchè come ho fatto a non vederlo aspettate ho fatto quello fortuna che è ricoglionito ma quello è bianco è un vero problema giù ecco qua 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 come ho fatto a vedermi oh come ho fatto a vedermi? che stanno sotto che le trova a scappare su le mani aiuto andai alla trappa ok stiamo per morire e potresti toglierti ma dai vaffanculo sono morto due volte ma per motivi sconosciuti adesso dobbiamo rifare cazzo adesso dobbiamo riaspettare di nuovo che arrivi comunque è bella quest'arma tipo una carbina e sono anche parecchio forte piano piano dobbiamo affotterci anche questo ecco ecco qua da solo bene per me per me dobbiamo passare di là invece non di qua quello non l'avevo contato davvero ok dobbiamo andare ad ammazzare anche quello aspetta ecco questa questa una 44 benissimo adesso abbiamo una che è anche da 44 adesso fermatevi qua un attimo aspettiamo che questi qua non erano davvero forti no 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 non riesco a oh non riesco ad ammazzarvi cavolo toccando l'ultima minica è nata fatto fatto oh merda cerchiamo di schivare colpi meglio possibile oh ma adesso muoiono ma c'è sto cazzo e vaffanculo va a incazzare mi sono venuto a tornare giù dove è sto qua vabbè intanto ma tranquillo che faccio e vabbè sti cominciamolo al posto gli ho sfrecciato davanti come un come fate a non vedermi quello è la che mi riguarda no no aspetta adesso è il momento dato per fortuna oh questa cannibal 44 non sono silenziose vero devo riaspettarlo sì ma c'è sto qua che mi guarda qua non posso ucciderlo aspettiamolo no ora possiamo ora possiamo no non potevamo non dobbiamo farli uscire dall'altra quasi quello non è morto sì ok manca uno manca uno manca l'ultimo prendere bene la mira prendere bene la mira prendere bene la mira ho detto prendere bene fatto no no appara no era una via più munizioni questa qua e ci hanno sentito tutti che cavolo come fai a dire al completo cazzo era una bella arma l'altra peccato che abbiamo avuto buttata via ah su di qua giù 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 su 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 e arrivati dopo un giro giro completo adesso su di qua esatto la così e di qua e aia e facciamo di qua e salto bene qua su un po' di più un po' di più un po' di più benissimo di nuovo ah no quasi quasi fatto ho capito l'ho un po' lunghetto non credo che bisogna andare di qua ma io ci vado lo stesso lo sapevo io che è quasi vi oh cazzo ecco ecco il dottore ha sorpreso un caffo munizioni e ma qua ci hanno ferrato da venti volte morto sul colpo spero che non ci sia che non lo so vediamo vediamo no qua moriamo sto che andare di sopra di sopra eh no a vedere bellino e non credo che si debba scendere infatti bisogna andare su si sto pensando a quello che penso e adesso adesso siamo proprio un palo vuoto dove si va? di qua? no si va avanti così mi si debba andare di qua? oh proprio non so dove andare io comunque ce la facciamo e eravamo andati di qua ecco bene siamo intornati qui siamo in troppo lontano è un salto troppo grande no non scendere che moriamo cioè sembra quale di andare ah ho capito no non ho capito per fortuna che mi sono bloccato quanto cazzo dobbiamo andare? non mi sa che diventa andare su tipo tipo ho detto tipo come abbiamo fatto a fare un saldo così ecco sapevo io che bisognava andare di qua cioè era qua per un motivo starò tutto sto occasione di rocce e si immagino che dobbiamo andare di qua esatto così e saltiamo bene proprio tutto come previsto perché c'è una tomba messa qua così a caso? aspetta come un'altra discesa adesso cade e muoro merda 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 un'altra un'altra e eravamo già morti saltati mattoni mattone dunque è così che è trascorso questi anni altellando fra le rovine si collezionando proiettili è stato parche divertente lo metto avvelenamenti si avvelenamenti credo che siano avvelenamenti ancora in serio ancora in questo momento ci vuole da fare dei salti che salta dopo di lui per fortuna ancora ghiaia controlla meglio spera che sai ghiaia ancora su quasi fatto benissimo adesso dobbiamo tornare su che guardi restava impalato poi stai trasportando su finito no non è finito ecco come pensavo se non c'è il rampino e via sono scoperti ecco qua un portone da alzare a mano se non c'è la faccia da solo però sembra parecchio pesante piega le gambe ecco qua molla si pesantuccio beh finalmente siamo arrivati al cimitero era ora appunto posso vedere posso vederlo se non c'è il sepolcro di Henry Henry no di qua cerchiamo la tomba un altro po' un altro po' leggi cosa leggi il dormitore ok non c'entra c'è questo cavolo una in meno un'altra mille da controllare allora mille e cinque e sessantanove mille e sei e novantanove ok sciavole incrociate deschio e ossa incrociate e le date mille e sei cento e cinquantanove mille e sei cento e novantanove esatto troviamo una rapide con tutte e tre abbiamo vinto beh ora propagniamo pochissima no non è la tomba che stiamo cercando c'era da casa io mi sembra improbabile timi il tempo di volatutto sono gente allegra qui dentro no dove vai quante ne abbiamo ancora da controllare ah mille o tanto vale con tornare ma come mai non ci sono arrivati prima gli altri cioè ah è vero non avevano le pergamene quindi quindi non potevano fare niente andavano a casarci non potevano profanare tutte le tombe una per una quella sbagliata probabilmente non è che questa quindi io cioè è una alla volta probabilmente aspetta è proprio questa ho trovato benjamin prigman trovato c'è ma soprattutto questo non è il sigillo il peschio dovrebbe essere di profilo giro tutto calcolato andiamo luce 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 mi ricorda outlast slender o qualche altro gioco con la torta tipo è una cripta e che facciamo immagino che la porta sia stata aggiunta dopo aspetta incrociamo le dita ma poi ho trovato qualcosa dove è? eccolo qui o stai fermo? è stato scritto da uno dei monaci leggi vi lascio leggere non leggo io ho una voglia barbafolta ah mi sa che è lui ah San Dismar cattedrale abbandonata ok io ho finito di leggere fatto lo mettiamo ora via sì un'annotazione così ora dobbiamo esplorare un altro po' qua qua se no niente sembra più giù salto inutile qua probabilmente ah non tesoro qualsiasi beh qualsiasi ah controlliamo appunto cos'hai una quest per me la leva ehi ciminiera qui serve il tuo agendino ciminiera ma che cazzo effetti visivi ottimi la porta non si apre la luce arriva dall'altra parte buchi buchi sto qua è tutto bucherella aspetta e io che dovrei fare scusate la porta non si apre giriamo un po' che vorrebbe essere acceso qualcosa tipo bene diamo un'occhiata ah credo di aver capito credo di aver capito dobbiamo girare sta roba qua qua corrisponde benissimo non sembra così difficile proprio tutto questi due sono molto attaccati quindi uno e due fatto così va bene adesso l'ultimo che credo proprio sia quello spero sì sì corrisponde bene fermo così un po' di più un po' più su benissimo era facile adesso qua adesso questo è un puzzle ah devo parlare come succede ma che sono sti cose oh cavolo tesoro sbagliato che è il puzzle tesoro sbagliato lamentati nessun tesoro no ma le vedi quelle croci ma sto detto io che non finiva qui ma è una è una caverna di sotto sì penso che Eberi ci stia indicando la strada ok dobbiamo andare in quella caverna ovviamente c'è solo un problema tipo andando di qua torniamo verso la cattedrale e torniamo da lì cerchiamo di scapparli cerchiamo di essere frutti lì ma come fai a sapere che sia sempre lì c'è dormerà ci vive lì senti cerchiamo di evitarlo come che ci rompa le palle su che cavolo come ha fatto a cavolo bene perché è proprio lì che dobbiamo andare forza che faccio a strada ma cavolo quanti sono si ma io vi ammazzeremo prima che voi lo facciate ok su tutto tu non ora mi sgamano ecco ne uno da solo spero questa è sparta quello sta guardando nella nostra direzione non ci ha visti ma deve essere stu cazzo ci ha visti ecco sapevo io finisce sempre così e tiro quello che ho detto inizio capitolo oh cosa vuoi grazie e siamo un po' esposti una cosa in testa cavolo come fa a essere ancora vivo oh 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 vuole dalle palle tu non vieni qua con un fucile a pompa arrivano tutte le parti ecco qua siamo sicuri credo spero ha già morto benissimo vedo lai ce la fai come la tua buca va bene non ero preparato era un casino allora non so se chiudere qua grazie il tempo a disposizione è finito anche se non è finito il capitolo va bene metà capitolo l'abbiamo fatto in teoria quindi ci vediamo al prossimo e continuate a seguirci grazie a tutti